Termino oggi 35 anni di onorato servizio nella polizia di stato Lo considerano tutti indebole Lui a bocca è sempre tutto L'abbiamo scelto perché eravamo sicuri Cosa c'è nella valigetta? Che non avrebbe reagito Fermato! Mi avevano detto che non avresti sparato Chi va a oggettore? Donato E' il padre del diavolo Per tutta la vita Ho avuto l'ambizione di essere una persona onesta Flora! Flora! La, 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 la...